Signori come sapete ogni mese vi riproponiamo game fails ovvero la raccolta di fails dai videogiochi di momenti divertenti in generale Cioè possono anche non essere proprio fails purché siano divertenti che voi ci mandate Come fare per mandarceli? Leggete tutto quanto trovate in descrizione e mi raccomando riportate anche il disclaimer Bravissimi ragazzi e partiamo subito Borderlands tutto a posto Tutto a posto non direi No non lo è Lui guarda da più vicino è proprio un cadavere Ok sospeso a mezz'aria Sì Ragazzi questi sono i buzzpiles Per cui devono essere inquietanti ma in realtà fanno solo ridere Esatto alla fine sì Quindi dobbiamo mantenere Tipo questo Questo è inquietante Oh mio dio Tipo tutto mobile Da tutte le parti Però Spariamogli Però fa bene perché si ripristina Ah Attenzione Costa E rimane tipo un filo che collega Nella mia vita volevo essere una X del controller della playstation Alla fine lo sono stato E' l'immancabile Raison Zero Dawn Che ci regala sempre delle pelle In questo caso un rigor mortis un po' particolare E' molto inquietante Anche il suono Mi fa ridere Un po' far ridere Ora che l'hai fatto notare E' lui che si sta autoleccando Con una certa No una certa lentezza anche Wow Ok Ok bella questa sigaretta Fumiamo Avevano detto che fumare aiuta a dimagrire Non lo fate ragazzi Questa è una cazzata No infatti Però Però Con la telepatia Adesso tocca fare un po' di massa Esatto E qui cosa abbiamo attaccato a quel tubo di amianto No Un po' di ballerini Ma si stanno ballando Questo è un easter egg in realtà Ci vorrebbe la musica qui E quando gli amici Per aiutarti invece Prendono a fuoco Così senza motivo Io avevo un amico Era solito volermi aiutare E poi prendeva Autocombustione Diceva lui Per via dei peti Non ci ho mai creduto Così ragazzi Senza motivo E Ma come è finito Niente è morto Cioè E lui se ne è stato il cazzo Sì proprio Motor bug sono tra i miei preferiti Anche perché i giochi di macchine Diciamo che non sono Ecco Così buggati Di solito Ma Questo ragazzi Non lo so Non lo so Fate l'amore Con l'asfalto Arriva e non si sa dove Lui allora lo segue Perché vuole vedere Dove è andata Eccolo È il sottomondo È il sottomondo Delle macchine Il sottocircuito E lui comunque Niente Comunque regolamento E mantenere lo stesso Alle 10 e 10 E proseguire Guarda come sale sulla moto Sì Ok sembra mia nipote piccola Che non sa come salire sul divano E anche qui Ok ragazzi Non perché è GTA Però non uscite dalla macchina Così all'improvviso Che vi succede questo Come sei vestito Ma da quale quartiere proviene Questa è la cosa più grande Maledetto Attenzione parte una scena Sì Quindi siamo Vediamo un po' Che succede Una bella scena Bello Ok Oddio No no Arriba così la macchina Signore Ragazzi Me ne abbiamo visti di belli Però questo Questo è un bug noto Che è successo Ce l'avete mandato in tanti Però è veramente incredibile C'è una moria di cavalli No qui a Catania Sarebbe Una stagione d'oro No Per le macellerie Perché Qui si mangia carne di cavallo Purtroppo sì Però il nostro ancora è vivo Meno male Sì Ah sotto acqua si possono trovare Varie specie animali Oltre che la mutande di Cassandra Esatto Tra cui il cane Ah Il bel doggo Il pesce cane Ma guarda che carino Eh sì Ma quello si sta facendo Proprio i cazzi suoi Come questo luco Come questo Di Far Cry Ovviamente sì Far Cry Ragazzi A mezz'aria Tra l'altro immune Sì Ci abbiamo fatto il callo Lui un po' È il bug di Ubisoft E qui sempre Red Dead 2 Questo è più un fail Per prendere a questo Lui inciampa sul cane Eh ok ma perché te la prendi col cane T'ha aiutato L'ha sbagliato Pazzi per i bug ragazzi Attenzione Cosa succede? Una specie di fantasma Questo era più da bug spy Esatto Però lo trova morto così Ok Quindi in realtà non era un fantasma Era un pazzo totale Ok Deus Ex Trascina il cadavere Però la cosa va molto male Perché il cadavere comincia a glitcharsi Da tutte le parti Poi lui lo perde Si rende conto Dice ma dov'è finito? Vediamo dov'è Eccolo Ma perché Sti poligoni che rimangono ingrippati L'uno con l'altro Sta grattugiando per il muro Sì 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 L'ascella è andata Vabbè ragazzi Vabbè Stasi iscriviti Io avevo pure detto Di non metterne più Stasi iscriviti Quindi deve essere particolare Mettiti un po' più a destra Ancora 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 un po' più Un po' più là Questo è bellissimo Ancora un altro po' Ancora Direi che puoi partire Può partire Benissimo Adesso Perfetto Continua comunque Sì spostati un attimo È perfetto vai Che è fatto con il buco del culo Continua Ecco Aspetta un attimo Un po' più in su Ma ti rendi conto Di che cosa è successo Cioè ha violato Diverse leggi Della termodinamica Della fisica E della quantistica Oltre che dei videogio Oltre che dei videogio Questo è un bug impossibile Questo ha avuto Secondo me Sta allacciando la scarpa Il colpo della strega Ah è rimasto così Oppure stava per allacciarsi le scarpe Però sta cercando di ricordarsi Come si fa Perché è qualcosa Che non si fa spesso Invece questi fanno stretching Sì Un po' Come si dice Sul cornicione Io eviterei Sì sì Ma poi un po' sopra le righe Con quel fucile in mano Che cosa volete dimostrare Eh un po' come quelli Che fanno i selfie Ad alta quota Esatto Ecco fate il fotomontaggio Con il green screen Qui non ho capito Che è successo Uno schiaffo Mi è arrivato uno schiaffo Di quelli forti Mia madre li dava così Cioè guarda Riguardiamo Ok vediamo Non si è capito ragazzi È arrivato qui È arrivato È arrivato talmente lontano Che è andato in un altro gioco È andato in realtà Cosa fa Cosa fa È diventato stroboscopio Sotto il terreno Madonna Madonna In un modo o nell'altro L'ha portata a casa Diciamo Ma insomma Perché non è che sia proprio Normal È sottomondo di nuovo Però no Qua io direi di mettere Un po' di thriller Di Michael Jackson Sì vediamo No perché mi sembra un po' Perché ballano Effettivamente Ma ballano alla thriller Sì Peccato che Ma perché hai rovinato la festa Dai No è pure questo Cosa c'è di strano Eh vabbè Sì Ma io ero Ragazzi Questo È lì che decide Di diventare un manichino Ed è lì Che si sbaglia Vabbè questa è brutta È proprio brutta Questa è bruttissima Ma è anche questo bug È bruttissimo Perché rovina l'atmosfera E poi riprende Come se niente fosse Sì continuiamo a parlare Normalmente Tutto normale Uno simile L'avevamo già messo Anni e anni fa Sì sì Però si è ripetuto È sempre quello Anche questo È un classico bug Di The Division Eh vediamo Basta guardare il volto Di lui Ehi ehi Non so se Capiamo eh Ma non solo Anche lei ha due teste Ok Che è Vabbè È un risultato È la ferita Esatto La doppia Ecco questa sono io Quando voglio scendere Dalla barca E non ci riesco Tu neanche ci puoi salire Io veramente sono io Cioè qualche chilo fa Ma sono io Non ce la fa ancora È che sta volendo Porca Io non mi volevo tuffare Ecco Bravo Finalmente Questo è sulla scala Non mi chiedete perché Sì nel wrestling Si nel wrestling si usa Suppondono Però poi L'hanno fatta volare E lui rimane un po' offeso Ma rimane lì tranquillo Ah è rimasto Rimane tranquillo sulla scala Ragazzi votate il bug Che vi ha fatto ridere di più Qui in descrizione Trovate il link E adesso vediamo il vincitore Del mese scorso Anzi questo è più che pazzi Per i bug E stupidi per i bug Cioè questo Finisce la quest Ti ringrazia Ti ringrazia E se ne va Cosa potrebbe prendere il torto Bello bello Come al solito noi Non li vediamo prima Quindi no Vi ringraziamo per essere stati con noi Vi ricordiamo che per mandarci un bug Trovate tutto in descrizione Compreso il disclaimer Che dovrete usare Se volete mandarcelo Vi ringraziamo però tanto Se intendete mandarcene qualcuno Vi ringraziamo noi sempre Per tutti quei contenuti Che Stai parlando all'Evangelion Ho già fatto queste battute Nelle news Ah ok Vi ringraziamo noi sempre Questi contenuti di voi Che ci mandate All'Evangelion Così Comunque ragazzi A parte le cazzate Grazie mille E continuate a seguirci Basta Basta E ci vediamo alla prossima Ciao 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 Grazie a tutti.